buongiorno a tutti da valerio villa e da metropolis immobiliare con piacere vi do il benvenuto in questo nuovo video oggi vi mostrerò un appartamento davvero molto bello un 4 e mezzo locali nel comune di stabio si tratta di un appartamento 4 e mezzo locali di circa 121 metri quadrati lordi con una grande terrazza di 54 metri quadrati complessivi di cui 7 metri quadrati coperti si sviluppa su tre livelli ed è ubicato al secondo e ultimo piano in piacevole residenza ed ottima esposizione solare edificata nel 2000 con materiali di ottima qualità in posizione riservata e strategica in una strada secondaria e non trafficata nel comune di stabio l'appartamento è distribuito in maniera ottima su tre livelli che si dividono in questo modo quindi abbiamo al primo piano un ampio atrio d'entrata che conduce al luminoso soggiorno e dalla spaziosa cucina abitabile a questo piano troviamo anche un comodo bagno per gli ospiti ed un piccolo ripostiglio mentre salendo al secondo piano tramite una bellissima scalinata in cotto accediamo alla zona notte dove sono presenti due camere da letto matrimoniali di cui una con una grande cabina armadio anch'essa molto luminosa e in questa zona troviamo anche una spaziosa camera singola ed un bagno finestrato con vasca quindi anche l'area notte è decisamente molto ben strutturata e accogliente al terzo piano invece come detto all'inizio del video troviamo una grande terrazza di ben 54 metri quadrati di cui 7 metri quadrati coperti che è lo spazio perfetto per godersi momenti con la famiglia e rilassarsi con una piacevole vista aperta l'immobile è ideale per famiglie numerose che desiderano vivere in una zona tranquilla e residenziale come quella di stabio a due passi da tutti i necessari servizi del paese quali negozi scuole mezzi pubblici posta banca ed autostrada quindi abbiamo visto un bellissimo 4 e mezzo nel comune di stabio con due posteggi come avete visto dagli ampi spazi ideale anche per una famiglia numerosa con questa bellissima terrazza di ben 54 metri quadrati all'ultimo piano quindi un oggetto ideale per coloro che cercano un immobile in zona ben servita vicino a tutti i principali servizi nel comune appunto di stabio nel mendrisiotto nella descrizione del video qui sotto vi lascio come sempre tutti i dettagli un descrittivo completo e anche il link per accedere all'immobile direttamente all'interno del nostro sito per conoscerne il prezzo di vendita e tutte le caratteristiche ed eventualmente se foste interessati a maggiori informazioni non esitate a contattarci tramite il numero di telefono che vi lascio qui sotto o tramite il sito metropolis immobiliare.com e saremo ben lieti di mettervi in contatto con il consulente che si occupa di questa proprietà per approfondire la proposta ed eventualmente organizzare anche una visita io prima di salutarvi vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale youtube attivare le notifiche con la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità relative agli immobili di metropolis e se avete la necessità di vendere o mettere in locazione il vostro immobile non esitate a contattarci poiché possiamo mettere a vostra disposizione un'esperienza di oltre 15 anni e un team specializzato e professionale che vi può aiutare in ogni fase della compravendita o appunto della locazione di un immobile io quindi vi ringrazio per essere stati con me anche oggi nella visita di questo quattro e mezzo locali a stabio vi auguro come sempre una splendida giornata e ci vediamo al prossimo video